Musica Benvenuti al TG10, l'apertura dal telegiornale oggi la dedichiamo all'incontro che si è tenuto ieri a Palermo tra Comune di Gela, Regione Siciliana e Eni alla presenza del governatore Rosario Crocetta, sono stati sbloccati fondi per il porto rifugio, quasi 6 milioni di euro per il ripristino funzionale della struttura portuale altri 200 mila euro saranno riservati al fine di creare le infrastrutture necessarie all'utilizzo delle acque del ragoleto, soddisfazione è stata manifestata dal sindaco Domenico Messinese Definirlo proficuo e poco, l'incontro di ieri tra Comune di Gela, Regione Siciliana e Eni che si è svolto a Palazzo d'Orleans alla presenza del governatore Rosario Crocetta ha dato i frutti sperati, sono stati infatti sbloccati fondi per il porto rifugio, 6 milioni di euro per il ripristino funzionale della struttura portuale altri 200 mila euro serviranno per creare le infrastrutture necessarie all'utilizzo delle acque del ragoleto a favore dell'agricoltura i soldi fanno parte dei 32 milioni di euro delle compensazioni Eni il vertice palermitano sugli oneri di compensazione per Gela conferma le direttrici d'azione reclamate dal territorio salute, sistema portuale, agricoltura e opere di urbanizzazione sono i quattro assi sui quali concentreremo gli investimenti per la città ha detto il sindaco Domenico Messinese Dopo che la settimana scorsa il presidente della regione siciliana ha firmato la delibera per perimetrare l'area di crisi complessa per l'accordo di programma ieri ci siamo incontrati a Palazzo d'Orleanza dove si è parlato di poltualità finalmente sul porto si è raggiunto un'intesa, è stato verbalizzato per investire gli oneri di compensazione circa 5 milioni e 8 per poter fare tutte le opere sia l'intragaggio ma anche alcuni interventi strutturati mirati che non mi vanno interseccendo i piani eventuali di sviluppo della virtualità su Gela per poter utilizzare nuovamente il nostro porto è stato interrogato come attenzione appaltante della protezione civile che ha redatto pure il progetto e che in tempi premi si attiverà per poterlo mettere in campo si aspetta la prossima settimana per stilare la bozza del protocollo che sarà visionata e speriamo nel giro di 2-3 settimane di dare la firma per poter mettere a disposizione le donne che l'Eni già fin da subito ha detto che è disponibile Dunque portualità, agricoltura, urbanizzazione delle aree cittadine e l'avvio di un istituto di ricovero e cura per patologie da industrializzazione Al tavolo ieri hanno partecipato Bernardo Casa, responsabile delle raffinerie Eni la delegazione parlamentare gelese a Lars il presidente del consiglio comunale di Gela, Alessandra Acia vari consiglieri comunali e i rappresentanti dei comitati del porto di Gela Con la firma del protocollo alla presidenza della regione di fatto parte l'iter relativo ai lavori per il porto lo dice Giuseppe Arancio, parlamentare regionale del PD il protocollo dice, stabilisce di dare priorità ai lavori per il dragaggio del porto di Gela affinché il fondale sia abbassato a meno 4 metri e per il prolungamento del braccio di sottoflutto il costo dell'opera è di 5.880.000 euro somme che saranno prelevate, come dicevamo nel servizio precedente dal fondo di compensazione versato da Leni per la vicenda relativa al petrolchimico insomma, conclude Arancio, può finalmente partire il cantiere per restituire a Gela il proprio posto e far ripartire le numerose attività collegate a questa fondamentale infrastruttura dopo anni di battaglie finalmente avremo un porto fruibile lo dicono i rappresentanti dei vari comitati sentiamo come comitato ci riteniamo molto soddisfatti finalmente abbiamo visto la conclusione dell'iter autorizzativo e anche la disponibilità economica per quando riguarda la candereabilità del porto quindi a breve inizieranno pure i lavori Ma come si svilupperanno i lavori che riguardano il porto rifugio? Sì, per delucidare un po' il progetto parliamo dell'allungamento del braccio di Ponente dell'escavazione totale a 4 metri e mezzo di una frangivento che praticamente garantisca che non si zabbia più il porto ci sarà la rimozione della New Rose e quindi la fruibilità totale del porto rifugio Adesso finalmente possiamo parlare di un progetto che potrebbe realmente partire a Dragna No, io non dico potrebbe io dico partirà perché ne siamo convinti siamo certi della rassicurazione avuta ieri e speriamo che da qui a fine anno perché i tempi tecnici saranno non credo non meno di un semestre vedremo finalmente la Draga a scavare e vedremo finalmente un po' di luce per la nostra città che ha bisogno di risorse come il porto di tutto quello che possa essere e portare benessere alla nostra città come un porto fluibile tranquillamente quindi turismo e quant'altro Dunque si potrebbe muovere un'intera economia? È ovvio tutte le città che hanno il mare non avendo un porto l'economia è morta abbiamo un esempio vicinissimo Licata Licata si è ripresa l'economia in maniera esponenziale quindi speriamo che anche Gela avremo finalmente questo porto e quindi rivedere la nostra vecchia economia come era prima E questa sera alle 21 al Club Vela di Gela è previsto un incontro su porto tra realtà, prospettive e sogni interverranno il sindaco Domenico Messinese l'assessore all'ambiente e sviluppo economico del comune Simone Siciliano Pietro Carosia comandante della Capitaneria di Porto Giovanni Canale piloti del porto di Gela Vincenzo Casciana gruppo armeggiatori e barcaioli del porto e rada di Gela e Licata Massimo Livoti comitato del porto del golfo di Gela e Davide Calabrese dell'associazione dei pescatori del porto rifugio di Gela modererà i lavori il giornalista Fabrizio Parisi Manutenzione ordinaria del nuovo tratto della lungomare Federico II di Svevia a Gela lo chiedono all'amministrazione comunale i consiglieri del Movimento 5 Stelle Enzo Giudice, Angelo Amato Virginia Farruggia e Simone Morgana lo scorso 29 maggio un gruppo di attivisti grillini si è adoperato per liberare dalla sabbia gli scivoli di ingresso del lato est del lungomare lato pontile ed il tratto della pedana che si estende fino al Lido Sport Center rimuovendo una quantità enorme di sabbia sul lato ovest invece l'intervento risulta molto più complesso per l'elevata quantità di sabbia presente che raggiunge in alcuni punti uno spessore di 50 centimetri ma nonostante tutto vengono creati dei varchi sufficientemente ampi per il passaggio dei pedoni e dei disabili in carrozzella e adesso apriamo la pagina della cronaca giudiziaria riferendovi di due arresti eseguiti da polizia e carabinieri rinvenute a Gela a monete antiche in un negozio di ferramenta vediamo stava scontando gli arresti domiciliari a seguito del blitz parenti serpenti dello scorso 27 ottobre quando finì manette assieme ad altre 13 persone ma tra le mura domestiche con estrema disinvoltura spacciava droga protagonista è il giolese Alessandro Di Fede 25 anni adesso arrestato dalla polizia e recluso nel carcere di Contrada Balate per smarciare la sostanza superfacente utilizzava il paniere dal balcone un metodo infallibile per non testare sospetti in piena linea con la tradizione prettamente siciliana del cesto di vimini allacciato ad una corda comunemente utilizzato per salire e scendere da casa beni di consumo ma in questo caso non si trattava di beni di consumo tutt'altro all'interno del paniere veniva collocata la droga gli agenti di polizia del locale commissariato diretto da Francesco Marino agli ordini del funzionario Laura Romano hanno osservato con estrema attenzione quello che accadeva e hanno fatto eruzione in casa di difede dopo una scupolosa ispezione è stato rivenuto circa mezzo chilo di marijuana che si trovava dentro la tromba dell'ascensore di cui il ragazzo si serviva come nascondiglio e a cui aveva accesso diretto tramite un sistema di movimentazione manuale dello stesso ascensore non funzionante da tempo all'operazione di polizia hanno preso parte anche gli agenti del reparto prevenzione crimine e sempre la polizia di Gela nell'ambito di controlli alla ricerca di armi e munizioni ha trovato presso un negozio di ferramenta monete monili e reperti di presumibile ingente valore il materiale archeologico costruito e ripartito in appositi raccoglitori e completo di vaschette numerate per la ripulitura era nella disponibilità di un pregiudicato di 69 anni altre monete sono state rivenute a casa di un uomo di 60 anni entrambi adesso sono stati denunciati per la ricettazione e i carabinieri di Riesi hanno ammalettato un 36enne per evasione dai domiciliari e resistenza e minaccia pubblico ufficiale si tratta di Carmelo Scaffini l'uomo è stato intercettato in via Cavour alla vista dei militari dell'arma ha tentato una fuga nascondendosi nell'abitazione di un altro pregiudicato ammalettato Scaffini ha rivolto frasi minacciose ai carabinieri opponendosi con spinte e strattoni all'arresto adesso si trova nel carcere di Caltanissetta a disposizione dell'autorità giudiziaria tre discariche abusive di rifiuti speciali per una superficie complessiva di 7500 metri quadrati sono state scoperte dalla Polizia Municipale di Gela diretta da Giuseppe Montana nelle zone periferiche della città rinvenuti materiale in amianto pneumatici usati materiale altamente inquinante e nocivo per la salute pubblica dieci persone risultate proprietarie dei terreni interessati sono state segnalate alla magistratura la Polizia Municipale ha anche inoltrato tre denunce all'autorità giudiziaria e alla settore ambiente del comune di Gela per punire penalmente i responsabili delle discariche sequestrate e per provvedere alla bonifica dei siti a cura dei rispettivi proprietari ovvero in caso di inerzia di quest'ultimi a cura del comune con spese a carico dei proprietari è stata ripristinata la vediamo nella foto la tabella toponomastica in ricordo di Gaetano Giordano il commerciante gelese ucciso dalla mafia il 10 novembre del 1992 per essersi ribellato al racket delle estorsioni è stato l'assessore comunale Eugenio Catania dopo il disappunto mostrato dalla vedova della vittima Franca Evangelista ad attivarsi la tabella indica il nome della piazza il cui nome è proprio quello di Gaetano Giordano E ora spazio all'apertura per la prima volta a Gela di un infoturist l'idea è della Proloco e del gruppo archeologico Geloi in collaborazione con il museo archeologico regionale e la casa del volontariato nell'ambito delle attività del cantiere Gela Per la prima volta a Gela c'è un infoturist l'anno ideato e realizzato la Proloco e il gruppo archeologico Geloi in collaborazione con il museo archeologico regionale e la casa del volontariato nell'ambito delle attività del cantiere Gela E informazioni utili ai visitatori che raggiungeranno la città del Golfo saranno dispensate dagli studenti delle classi accoglienza dell'Istituto Alberghiero Luigi Sturzo. Tutti i visitatori possono venire a prendere le informazioni anche perché sono creati dei percorsi turistici ben stabiliti e questo permetterà ai visitatori di poter apprezzare nel modo corretto tutto quello che c'è da vedere nella nostra città. Avete seguito un corso di formazione e che cosa prevede la vostra attività? Dare informazioni ai turisti che vengono a visitare il nostro museo archeologico, noi abbiamo seguito un corso di formazione presso la Casa del Volontariato e siamo stati formati da Giuseppe Laspina e noi con questa formazione ci siamo preparati per accogliere al meglio i nostri turisti. Per un mese noi avremo al museo questi studenti che non solo dovranno conoscere il nostro museo ma anche divulgarlo. Un'operazione che non è sicuramente semplice perché un conto avere delle convinzioni di come è il nostro museo, di come è strutturato e qual è la nostra storia ma divulgarlo, trasmetterlo, quella che è la loro esperienza degli altri non è una cosa sicuramente semplice. Questo sarà sicuramente un compito proprio teutico che è quello che potrebbe essere anche un'opportunità di lavoro futura per questi ragazzi stessi. Saranno attivati i laboratori collaterali dedicati all'innovazione e nei beni culturali con la partecipazione degli studenti della Liceo Scientifico Elio Vittorini. Abbiamo realizzato due percorsi in particolar modo, uno con l'Istituto Alberghiero che riguarda le attività di promozione e di accoglienza all'interno del museo, quindi dare anche delle informazioni importanti a quelli che sono i visitatori che verranno durante questa estate. L'altro percorso con il Liceo Scientifico che praticamente va a realizzare delle attività di innovazione nell'ambito dei beni culturali. Interamente i ragazzi stanno partecipando alle attività e promuovendo una serie di laboratori per l'innovazione, per eventuali innovazioni da proporre in una vetrina museale con l'interfaccia da potersi realizzare con le moderne tecnologie cellulari o anche iPad e altre tecnologie appunto in cui è possibile applicare tramite software dei sistemi innovativi per la lettura e le fruizioni dell'opera d'arte. In particolare proprio la movimentazione per esempio dell'opera d'arte o la realizzazione di ologrammi che consentono appunto una fruibilità a tutti i livelli dei reperti più importanti e più significativi. L'alternanza scuola-lavoro serve proprio a questo, serve a far conoscere al ragazzo il mondo del lavoro. L'esperienza scolastica è una cosa, l'esperienza lavorativa è un'altra. Quello è il pezzo mancante che la scuola non riesce a dare al ragazzo. Con l'alternanza riusciamo a colmare questo piccolo... E sulla vicenda InfoTurist abbiamo raccolto la testimonianza dell'assessore comunale Francesco Salinito. Lo sentiamo. Assessore, il primo InfoTurist che viene istituito a Gela trova il suo spazio all'interno del Museo Archeologico Regionale sfruttando l'alternanza scuola-lavoro con gli studenti della classe accoglienza dell'istituto alberghiero che si alterneranno all'interno di questa postazione per dare informazioni ai turisti non soltanto su questo presidio archeologico ma anche sui servizi offerti dalla città di Gela. È un passo in avanti che facciamo insieme, la Proloco, le associazioni, il CESBOP insieme e alla presenza dell'amministrazione comunale. Sì, l'attività di InfoTurist è fondamentale soprattutto per una città che sta cercando faticosamente di avviarsi nella direzione dello sviluppo economico anche attraverso questo settore che è fondamentale, il turismo. L'InvoTurist è anche una postazione direi determinante in questa direzione che ben si sposa con ciò che sta facendo l'amministrazione che poi dovrà rapportarsi anche con questo InvoTurist quello di mettere insieme i comuni di Piazza Armerina, Caltagirone, Niscemi, Ricata, Vittoria, eccetera per scambiare informazioni reciproche sia sui siti, sia sulla ricettività, sia sui servizi che ciascun comune dà. Questo direi che è importantissimo insieme al fatto che per esempio stiamo preparando una brochure di territorio non solo della città perché ci siano degli itinerari che mettano insieme le diverse città quindi l'attività di questa postazione direi che è fondamentale e quindi mi fa molto piacere questa iniziativa che le associazioni prendono con la quale certamente collaboreremo per mettere insieme anche strumenti anche di tipo informatico eventualmente per mettere insieme tutte le informazioni nel territorio noi in questo momento stiamo per presentare il SIT il sistema informativo territoriale dove convuliranno tutte le informazioni anche non necessariamente di tipo cartografico, PRG e quant'altro ma ogni tipo di informazione che riguarda il territorio tra queste c'è anche l'informazione turistica quindi il SIT è un sistema che con quello che è l'obiettivo di questo InfoTourist sicuramente si lega perfettamente e quindi direi che anche questa è un'ottima occasione per cercare di mettere a rete tutto ciò che anche volontariamente molto spesso nella città si fa e è il motivo per il quale ci sentiamo anche orgogliosi di essere di questa città Il sindaco di Gela, Domenico Messinese, ha firmato un'ordinanza con cui vieta l'uso dell'acqua ai residenti di Via Livorno L'atto segue la comunicazione del dirigente distrettuale dell'Unità Operativa di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Provinciale secondo la quale i campioni di acqua prelevati nell'arteria in autocontrollo da Caltacqua non sono risultati conformi ai parametri previsti per la presenza di batteri La società che gestisce il ciclo idrico integrato ha annunciato la sostituzione di un tratto di condotta con i relativi allacci agli utenti interessati Ci fermiamo lì nella regia per la pubblicità Seconda parte del telegiornale proseguono gli appuntamenti in occasione della festa della Madonna delle Grazie a Gela fino a domani ogni giorno nella chiesa dei Cappuccini alle 7.30, 8.30 e 19 celebrazione eucaristica e alle 18 Santo Rosario e Coroncina alla Madonna Domani alle 21 adorazione eucaristica nel piazzale del convento animata dalla piccola casa della misericordia Contrastare l'illegalità attraverso una collaborazione più attiva da parte delle forze dell'ordine e con attività di sensibilizzazione per le vittime che subiscono usura ed estorsioni E' l'obiettivo dell'incontro organizzato dal prefetto Maria Teresa Cucinotta con le associazioni antiracket che operano nella provincia Anissena quali quelle intitolate a Ghetano Giordano di Gela noi e la Sicilia di Mazzarino Ninetta Burgio di Niscemi insieme per condividere il loro impegno a diffondere la cultura della legalità attraverso la denuncia L'impegno istituzionale è quello di combattere l'estorsione e l'usura L'impegno reale oltre a quello è di creare una mentalità nella società soprattutto un briciolino di rinascita sociale di cui questa provincia e quest'isola hanno un grande bisogno L'errore è pensare che solo chi ha problemi di racchetto e di usura debba appoggiarsi alle forze dell'ordine, alle prefetture e alle associazioni Invece è un problema di tutti perché è un decadimento dei diritti, della libertà, dell'economia riguarda tutti, non solo le persone interessate Maggiore tutela per le vittime del racket attraverso delle azioni di supporto da parte delle istituzioni è stato inoltre ciò che il prefetto Maria Teresa Cucinotta ha ribadito durante l'incontro a Palazzo di Governo L'impegno è un richiamo forte di attenzione all'attività indispensabile svolta dalle associazioni anti-racket nel volere favorire le denunce nel volere essere di supporto a quegli imprenditori che sono vessati e quindi contestualmente di supporto all'intera società civile perché si giunga ad un'affermazione reale della legalità Vi sono state delle modifiche normative che impongono anche un esame più stringente delle, diciamo, quelle che devono essere le caratteristiche che deve avere un'associazione per essere iscritta nell'albo prefettizio e poi perché, d'intesa con il commissario straordinario che è già presentato a Palermo alla presenza del Vice Ministro Bubbico Vice Ministro dell'Interno sensibilizzare anche le associazioni e per essa anche gli imprenditori su questa nuova procedura informatica che da questo momento al 20 giugno garantisce la maggiore trasparenza e celerità del sviluppo delle pratiche per ottenere i benefici previsti alla legge anti-racket e anti-usure e in pagamento agli sportelli della Banca Unicredit di Gela il contributo per il canone di locazione relativo al 2015 lo ha reso noto l'assessore comunale ai servizi sociali, Licia Abela le somme integrative attinte dal Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione sono rapportate all'importo del contratto di affitto regolarmente registrato e alla sua incidenza rispetto al reddito del nucleo familiare e sono state pubblicate al comune di Gela le gradatorie con i nomi dei soggetti emessi e degli esclusi all'ottenimento del bonus socio-sanitario e dell'assegno civico l'elenco è consultabile all'albo pretorio sul sito internet del comune di Gela o negli uffici del segretariato sociale una notizia di sport, calcio, primo colpo di mercato per il Gela vestirà la casacca bianca-azzurra in serie D l'attaccante Santino Biondo, 24 anni, nella passata stagione alla Rocca di Caprileone in eccellenza a girone B con la cui squadra ha realizzato 22 gol nei prossimi giorni il calciatore sarà presentato alla stampa e ai tifosi cento anni fa nasceva Felicia Bartolotta Impastato la donna di grande tenacia e coraggio madre di Peppino Impastato che ha lottato con tutte le forze chiedendo giustizia dopo la morte del figlio a lei è dedicato il libro di Gabriella Ebbano che è stato presentato durante il fine settimana dal titolo Insieme a Felicia e il coraggio nella voce delle donne in un incontro organizzato da attivarci insieme a San Cataldo in collaborazione con Onde Donne in Movimento la nostra associazione opera a San Cataldo abbiamo in gestione un bene confiscato all'interno del quale è presente un centro culturale femminile dedicato appunto a Felicia Bartolotta Impastato quindi quando mi hanno proposto di presentare questo libro qui tra San Cataldo e Caltanissetta non ci abbiamo pensato due volte siamo stati più che felici di organizzare l'incontro su questa donna straordinaria di cui quest'anno ricorre il centenario della sua nascita quindi per noi è un'occasione molto importante per ricordare Felicia e anche altre donne che hanno combattuto su questo esempio la mafia che non si sono arrese che hanno continuato a far rivivere i loro cari in questa terra che comunque purtroppo perde facilmente la memoria L'autrice Gabriella Ebbano nasce nella capitale dopo la laurea in lettere e dedica la propria vita alla fotografia una carriera particolarmente ricca ritrattista e fotografa di scena in teatro insegnante di fotografia ha partecipato a diversi concorsi e si è impegnato in progetti sulla legalità e laboratori di scrittura creativa nelle scuole grazie al padre di origine siciliana Gabriella Ebbano coltiva un legame con quest'isola lavora in Sicilia infatti già dal 1997 dedicandosi alla fotografia sociale ed etnografica e in questa terra conosce Felicia Bartolotta Impastato la protagonista principale di un libro in cui si raccontano delle storie di donne con grande coraggio questo libro è pieno di coraggio perché parlano le donne siciliane che purtroppo hanno avuto una perdita molto forte perché hanno visto strappati gli affetti più cari da parte della mafia questo libro nella prima parte racconta Felicia attraverso abbiamo fatto 10 interviste al femminile quindi sono aneddoti, ricordi di questa grande donna tra cui le attrici che l'hanno interpretata sia nel film i cento passi di Lucia Sardo sia la lunetta Savino nell'ultimo film tv Felicia Impastato la seconda parte poi ci sono le storie appunto come dicevo all'inizio appunto di tante altre donne siciliane che come Felicia hanno dovuto combattere per ottenere giustizia appuntamento con la rassegna Teatro sotto le stelle all'antitoto di Gela venerdì 1 luglio alle 21.30 è prevista la rappresentazione Turbolense in galleria della compagnia teatrale Cesare Cannata la rassegna si concluderà a settembre l'ingresso di 5 euro a coppia ricordiamo che nel cartellone è prevista anche l'esibizione di Giobbe Covatta l'abbiamo concluso anche per oggi grazie per averci seguito appuntamento alle prossime edizioni grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti